Musica Ben trovati all'appuntamento con delitto al Consiglio il settimanale politico di TVR Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana sono tre gli argomenti che affronteremo in questa puntata settimanale ecco i titoli Parliamo di un'iniziativa della Commissione per la Valorizzazione delle Aree Interne un atto che impegna la Giunta a costituire una consulta per le isole minori e poi si parla del glifosato, noto erbicida che pare non sia cancerosino ma vogliono sapere di più in Commissione del Consiglio regionale anticipando l'Agenzia Europea di Sorveglianza e poi si parla dei grandi ospiti e la prima serata di una cena per l'Ucraina al Torreta Blues Festival e quindi entriamo subito nel vivo del nostro appuntamento parlando dello sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana ovvero l'Elba, il Giglio, Capraia, Monte Cristo, Giannutri e Gorgona e dovrà essere garantito anche prevedendo una consulta delle isole minori dedicata a quelli che sono i temi dell'insularità, della continuità territoriale dell'integrazione dei servizi socio-sanitari ma anche dei servizi come i trasporti scolastici ovviamente ma non solo ai 33.000 abitanti dovranno essere assicurati interventi mirati sui servizi pubblici l'atto presentato in aula dal Presidente della Commissione Area Interne si muove a raccogliere le audizioni fatte dalla Commissione con i rappresentanti istituzionali che hanno chiesto interventi su una serie di criticità e quindi la Giunta è chiamata a impegnarsi per una specifica attenzione tramite interventi che garantiscono come detto l'accessibilità territoriale In Commissione Area Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che li risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là del flusso della stagionalità turistica il Governo ha ricompreso questi territori all'interno della Strategia Nazionale Area Interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità in particolare c'è il tema dell'emergenza urgenza ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il Governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole così come per gli insegnanti altra questione è il tema della continuità territoriale i trasporti la Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale chiaramente è fondamentale visto che scadranno poi le convenzioni lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi l'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori PNRR, fondi strutturali il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in Regione di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori noi pensiamo che oltre alla stagionalità oltre al turismo questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore e in questo modo li vogliamo vivere la nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo itere in commissione da febbraio che ci lavoriamo abbiamo udito tutti i sindaci dei vari comuni diciamo delle isole e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta diciamo noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati diciamo nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto perché le isole sono aree interne sono diverse dalle aree interne hanno problematiche diverse ovviamente e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo che è il periodo estivo i problemi sono ovviamente di sanità di scuola di infrastrutture di acqua di rifiuti tantissimi quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti ma anche per i medici che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono e poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei e infine il discorso ambientale che forse è il più importante di tutti perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante c'è il discorso dei rifiuti c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche devo dire il discorso degli ungulati quindi i problemi sono tantissimi noi come commissione abbiamo dato delle linee guida alla giunta e speriamo anche con questa diciamo introduzione nelle aree interne con il discorso il resto al sud che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana si possa veramente arrivare a cose concrete premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria quindi noi riteniamo che la regione toscana il consiglio regionale se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di ritenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona la Toscana ha scelto di stare dalla parte della sostenibilità a difesa della salute del cittadino e dei distretti biologici il consiglio regionale si è espresso già con una mozione e ha chiesto la sostituzione di un erbicida e di altri diserbanti nocivi con il cippato prodotto formato da scaglie di legno che previene proprio la crescita di erbe infestanti questo pesticida è il glifosato a ribadire questa ferma posizione dell'istituzione regionale la Presidente della Commissione Agricoltura dell'Assemblea Legislativa ha letto il parere sul glifosato della European Chemicals Agency l'agenzia dell'Unione Europea deputata alla sorveglianza delle sostanze chimiche stante la valutazione rilasciata il noto erbicida avrebbe sì effetti anche di lunga durata sugli organismi acquatici ma non tali da classificarlo né come tossico né come sostanza cancerogena o nociva per la riproduzione innanzitutto mi preme ribadire che il Consiglio e la Regione Toscana si era già espressa in passato all'unanimità peraltro in più occasioni contro l'utilizzo del glifosato quindi la direzione che ha preso la Regione Toscana nella sostenibilità nel diritto alla salute nel garantire un'agricoltura che fosse rispettosa dell'ambiente prima di tutto per l'uomo rimane quella l'indiscrezione che abbiamo avuto in questi giorni dalla Commissione Europea che si occupa delle analisi chimiche in questo momento non ci sposta perché la nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani ma prima di tutto dal tutelare l'uomo quindi noi rimaniamo fermi su quello che abbiamo espresso in passato e su cui vorremmo continuare anche perché non è certo ci sono delle indiscrezioni e non abbiamo ancora la certezza che non sia dannoso per l'uomo e quindi è bene essere molto prudenti io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosate che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno in meno e ricordo che la regione toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica e nella tutela dell'ambiente e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea cioè di transizione ecologica sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo il minore possibile di pesticidi fitosanitari e quant'altro in un'ottica di un ambiente più salutare per la salute umana e ambientale l'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali internazionali e anche quelle della regione toscana noi ci siamo espressi con atti già nella scorsa legislatura e continueremo a farlo perché l'Unione Europea continui a mantenere questo assetto In conclusione un evento che è stato presentato all'interno del palazzo del Pegaso sede del Consiglio regionale della Toscana parliamo della Torita Blues Festival che è arrivata la 34esima edizione una parata di ospiti a Torita di Sien dal 23 al 25 di giugno la rassegna offre un cartellone davvero di altissimo livello è l'edizione della ripartenza che non dimentica la guerra in Ucraina e inizia questa edizione con la cena blues for Ucraina 34esima edizione il Comune è sempre stato dalla parte del blues in tutti questi anni e stiamo allestendo come sempre un bel palco una bella copertura e la nostra piazza Matteotti saprà accogliere queste tre giornate interessanti anche la prima che è fuori programma da un certo punto di vista ci sarà una scena pro Ucraina con anche le semifinali dell'Italia Blues Union poi la serata forse club per i meno esperti del blues è quella con Alex Britti quindi la serata del venerdì e poi invece sabato si concluderà il 34esima edizione con una serata più di nicchia dove esperti di blues sapranno sicuramente ascoltare questa musica tanto cara al nostro territorio partenza è veramente alla grande perché avremo intanto si inizia con una serata di solidarietà perché ci sarà la classica scena in piazza con ospiti dei profi Ucraini che sono in zona in diocesi qui oltre a questo ci sarà anche le semifinali nazionali dell'Italia Blues Union si passa poi al venerdì dove abbiamo come ospite un grande nome Alex Britti presieduto anche da due da una band italiana non lo so lombardi c'è che Franceschetti e The Stompers sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì sabato io la definisco una seratona perché è da tanto tempo che aspettiamo questi artisti inizieranno due grandi performer inglesi uno è Paul Lamb armonicista uno dei più importanti nella scena musicale inglese e dopo ci sarà ovviamente Kick Fletcher che è uno degli emergenti più volte nomination ai Blues Grammy Award viene con la band originale americana e quindi sarà veramente un grande spettacolo sia il venerdì ovviamente per sentire Alex in una situazione molto blues direi perché ritorna alle origini e poi ovviamente il sabato ci dirà con questi due grandi artisti internazionali quindi Torita Blues ritorna diciamo se vi è consentito un termine ai fasti del pre-covid insomma a richiami di appassionati della musica blues non solo da tutta Italia ma anche da tutta Europa tutto il mondo nel 2016 è stato ospitato a Torita di Siena le finali europee del blues che ha visto partecipare artisti di 22 paesi europei e che comunque è stata una manifestazione bellissima ma che ogni anno si ripropone con artisti di fama nazionale ed internazionale per tre giorni di bella musica cultura intrattenimento e anche temi sociali viene sempre fatta anche una cena dove quest'anno insomma il tema è ovviamente l'Ucraina e l'incasso sarà devoluto agli ucraini tutti i richiedenti aiuto e c'è sempre anche uno scopo molto sociale è una bellissima manifestazione dove la musica fa da protagonista e insomma io invito tutti a partecipare al Torita Blues dal 24 al 26 giugno un'iniziativa e che iniziativa 30 anni di Torita Blues è una cosa un'esperienza molto bella importante e devo dire quando si giudicano le iniziative e le esperienze culturali i progetti si deve sempre guardare i frutti io credo che 30 anni siano un signor frutto e che si debba essere orgogliosi di questa iniziativa che fa capire e testimonia come la Toscana abbia nella cultura e nell'attività culturale uno dei suoi asset fondamentali per noi la cultura è lavoro impegno è vitalità dei territori senso di appartenenza è una linea di sviluppo che vorremmo sempre più con la commissione e con la consigliera Rosignoli che di Torita ma appartiene alla commissione cultura vorremmo far diventare davvero un mantra un convincimento che tutti i toscani e le toscane debbono avere la cultura rende migliore l'aria che respiriamo le esperienze culturali come Torita Blues rendono migliore l'aria che respiriamo tutti chi ci lavora e chi non ci lavora chi va ai concerti e chi non ci va è importante che ce ne siano ce ne siano molte e dobbiamo essere molto grati agli organizzatori che fanno salti mortali con le poche risorse che spesso riusciamo a destinare a questi obiettivi per realizzare cose belle che migliorano la vita di tutti e che davvero rendono onore a una storia a una tradizione ma anche a un futuro che noi vogliamo avere e vogliamo raccontare per il nostro territorio con la cultura si mangia e la cultura fa stare bene fa stare meglio tutti la musica poi è la cultura che ci accompagna dalla mattina alla sera qualunque cosa facciamo anche se non stiamo solo con l'orecchio teso e quindi è tanto più importante non dico niente sul genere perché non ho le competenze ma è una bellissima esperienza ripeto e 30 anni lo dimostrano e con il Torita Blues Festival si conclude anche l'appuntamento settimanale con Dentro il Consiglio curato dalla redazione di TVR Tele Italia grazie per essere stati con noi tra sette giorni saremo ancora Dentro il Consiglio Grazie per la visione